29 maggio 2021, Barone Vassallo, Motore Italia, Barone Vassallo per Paolo Loriga su Rumble. Allora, oggi abbiamo un bellissimo video che parla della gentile concessione data dal nostro santo figliolo che ha trovato finalmente l'idea per far sì che tutti possano avere la gentile concessione, la meravigliosa panacea studiata dal governo e che fa bene. Fa bene specialmente quando, come riportato nel video che troverete qui sotto il link, nei messaggi e nella spiegazione di questo video e naturalmente nella pagina, nel canale Rumble, Barone Vassallo, Pierpaolo Loriga, naturalmente quello migliore è quello fatto da quelli che un tempo ti lavavano i capelli e te li facevano venire belli pomposi o belli pomposi oppure belli lisci, tutti belli lisci, tutti i capelli biondi ben fatti. Vi lascio immaginare il video di Rumble di cosa parla e quali eccezionali scoperte, e menziona, fatte da questo nostro mitico eroe col pennacchio in testa che ha veramente dimostrato di essere un supereroe, quasi un supereroe assoluto, un qualcosa di fantastico, proprio, un qualcosa di fantastico che non si vedeva forse dai tempi di, non so, Totò, queste cose qui. Bene, iscrivetevi, condividete e guardatevi il video che non è da perdere. Ciao ragazzi, a domani!